Lo sport rappresenta nella mia vita uno stile di vita. Questa disciplina l'ho scelta per caso, un giorno mio padre mi accompagnò alla canottiera in motoguzzi e è diventata la mia vita. Le persone più importanti nel mio percorso sportivo sono stati gli allenatori che fin da subito hanno costruito questo percorso che ho fatto in questi anni, dal primo allenatore fino all'ultimo. Le cose che amo di questo sport sono la sensazione di sentire la barca che scorre sull'acqua e quelle che odio, meglio non dirle. Sinceramente non mi ispiro nessun atleta. Se non avessi fatto l'atleta avrei intrapreso la carriera militare per servire il mio paese. Una volta finita la carriera penso di rimanere in questo ambito sportivo. Il momento sportivo più bello è stato il bronzo e la qualifica per Tokyo ai mondiali di Linz. No, non ho né riti scaramantici né gesti prima delle competizioni. La notte prima delle gare non ho pensieri e mi rilasso. In quest'anno di pandemia ho continuato ad allenarmi sempre in vista di Tokyo. Lo sport può contribuire alla ripartenza riaprendo tutto e tornando come prima alla normalità. Questa vittoria la dedicherei a me e a tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare fino a qui. Un avversario che temo più degli altri? No. Sono tutti... Non bisogna sottovalutare nessuno. No, non c'è nessun avversario che inviterei a cena. Non so cucinare quindi prenderei una pizza. La mia meta dopo Tokyo sono i mondiali di Shanghai. In un ipotetico talent, un programma di cucina per chi non sa cucinare. La mia serie preferita è Grace Anatomy. Non ho una playlist, ascolto musica così come viene. La resilienza per me è stata sapermi reinventare, avere nuovi obiettivi e nuovi stimoli per andare avanti.